Nella vita, come nel basket, se non ci metti impegno non vai da nessuna parte. Impegno è stare tutti i giorni in palestra e avere la giusta mentalità anche quando le cose vanno male per non perdere mai di vista gli obiettivi. Per me talento è responsabilità. Quando gioco il tempo si ferma ed esiste solo quel momento. Per me questo è l'amore. Quando faccio un assist, quando passo una palla alla mia compagna, io devo potermi fidare. L'intraprendenza è accettare le sfide, andare oltre tutto e superare limiti e difficoltà. Non bisogna accontentarsi mai, bisogna fissare un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo. Azzurra dentro è tutte queste cose. Sacrificio, impegno, talento. Azzurra dentro è sentirsi questa maglia addosso. Grazie. Grazie.